Buongiorno a tutti, oggi voglio presentarvi delle applicazioni da poter installare all'interno di Spotify per poter avere delle funzionalità in più e adesso vi spiego un po' come funziona L'articolo l'ho letto su Gechissimo e le applicazioni che andrete ad installare cliccando su ogni link che sarà presente nell'articolo vi permetterà di installare queste estensioni per Spotify come detto ad esempio se io faccio, apro il link vi comparirà ad esempio clic per lanciare, magari le prime volte vi chiederà conferma e quando vi chiederà di installarla vi comparirà un install o un installa qua per poterla installare siccome io ce le ho già installate non mi chiede come installarle e innanzitutto vi mostro un po' le funzioni innanzitutto abbiamo Fuse che è una raccolta di playliste tematiche molto curata graficamente che offre selezioni musicali, divise per genere, avvenimenti e temi ispirati alle attualità ad esempio il compleanno di un artista, un concerto eccetera poi abbiamo Blue Note che è riferito ovviamente alla musica jazz quindi nel nome di uno dei locali più famosi del mondo è estremamente curata e offre un mucchio di informazioni poi abbiamo il famoso Music X Match che è utile per gli appassionati di karaoke in quanto mostra automaticamente i test delle canzoni riprodotti Spotify seguendo i tempi di quest'ultime e questo Music X Match è disponibile anche se non ricordo male come applicazione per Android e sistemi Mac poi abbiamo Emerge in cui vengono mostrate le band emergenti e molto altro sullo stesso Spotify ad esempio di 6 settimane creando una top 10 molto comoda da consultare poi abbiamo Pitchfork è un'applicazione relativa all'omonimo magazine permette di scoprire nuove voci del panorama musicale alternativo offrendo una veste grafica molto piacevole alla vista adesso vediamo se l'avevo messa, sì, ok e poi il famoso Rolling Stone Recomenza ovviamente è riferito alla rivista quindi mi dà dei consigli su che tramite anche playlist tematiche album e canzoni e con la possibilità anche di leggere le recensioni delle opere più recenti del panorama musicale internazionale direttamente da Spotify come vedete è molto facile da utilizzare in quanto vi installa questa applicazione uno è Blue Note come vi abbiamo detto prima con la possibilità di scegliere gli anni dal 39 al 55 possibilità di scegliere ad esempio tradizionale Groove Voices poi abbiamo come vi abbiamo detto prima Fuse riferito anche a degli eventi che ci sono di vario genere ad esempio il compleanno di Bob Dylan così poi abbiamo Music Smatch che come potete vedere ad esempio vi mostra siccome stavo ascoltando questo brano vi mostra le frasi che dicono gli autori di questo brano quindi inizia quando voi farete play vi mostrerà seguendo il tempo le frasi e voi potrete ridire lo stesso senza problemi in quanto potrete leggere per bene cosa sta dicendo l'autore poi abbiamo come detto prima Pitch Fork che è un'altra rivista e anche qua vi dà dei consigli tramite anche voti di recenti autori da poter ascoltare o aggiungere in playlist che creerete e per finire come vi avevo detto Rolly Stone riferito alla famosa rivista in cui ci sono vari autori e altro potrete ascoltarle spero vi sia piaciuto questo video vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti